Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog! Ebbene sì, Doctor D Channel si sta evolvendo e sta diventando qualcosa di più serio appunto per creare di questo canale un piccolo social per il cosplayer Beh, che dire, se diciamo avete voglia di condividerlo con tutti i vostri amici mettere mi piace, commentare, iscrivervi, siete liberissimi di usare un tallo è gratis, non costa nulla, anzi mi fate soltanto un grandissimo piacere nel mettere anche solo un mi piace, quindi per me vuol dire veramente tanto Beh, le novità di questo canale sono principalmente tre, credo Allora, beh, prima di tutto nuova location, siamo qua nell'inesplorata taverna di casa mia che rinominerò il Sancto Sanctorum del Prop, non so, una roba del genere Comunque, cercherò di fare poi video in HD, quindi video in alta definizione dove appunto farò vedere il maggior numero di particolari cercherò di migliorare anche il format del tutorial che appunto faccio cercando di andare un po' a studiare il come fare, il come mettere, il come riprendere e tutte queste cose che funzionano da quello che vedo su YouTube Sì, funzionano molto bene Dopodiché la terza novità è che avrò un piccolo studio mio Appunto, la taverna, la taverna che, beh, adesso dove è appoggiata la telecamera ci sarà un bel banchetto completamente illuminato da softbox che sto realizzando Beh, non potevo non realizzarli io Questi piccoli softbox, devo dire che funzionano molto molto bene Beh, lo potete vedere dal video, no? Beh, detto questo, che dire? La taverna diventerà il mio nuovo posto in cui realizzare le cose Inviterò sicuramente tanti personaggi speciali come altri YouTuber che creano e appunto fanno il cosplayer con di passione e altro, altro da dire Beh, queste sono più o meno le novità che stanno succedendo in questo canale Detto questo, io ragazzi vi saluto Eeeeeee Pffè, ciao!